Ancora una spaccata alla sede della CGL di Montevarchi. Nelle mire dei ladri sono finiti gli uffici di via Roma che ospitano il caffa messi completamente sottosopra nella notte. Misero il bottino con cui i malviventi si sono dati alla fuga una banconota da 50 euro e un paio di occhiali. Ingenti invece i danni che si sono lasciati alle spalle, circa 2000 euro. Oltre alla porta principale infatti ne è stata danneggiata un'altra a vetri spondata con l'utilizzo di un estintore. Ad accorgersi dell'accaduto gli addetti che la mattina si sono presentati negli uffici del sindacato per dare il via alla giornata lavorativa. È stata immediatamente presentata denuncia ai carabinieri che hanno dato avvio alle indagini. Non è la prima volta che nel 2024 i locali vengono visitati da malintenzionati, a febbraio un altro ride e nello scorso aprile un episodio simile a Terra Nuova Bracciolini. Non si tratta nemmeno di un fatto isolato sempre nel centro storico Montevarchino. Nelle ultime ore si sono verificati altri episodi di microcriminalità come un registratore di casa portato via sotto gli occhi di una titolare di un negozio e il furto di una borsa all'interno di un altro esercizio commerciale.